Attenti a giocattoli e vestiti, soprattutto se vengono dalla Cina. Buona parte dei prodotti pericolosi destinati all'Europa sono bloccati alle frontiere, ma diversi passano comunque e quelli più minacciosi sono destinati ai nostri bambini. La Commissione europea ha presentato il suo rapporto annuale sui prodotti pericolosi, dal quale emerge che lo scorso anno è stato impedito l'ingresso nell'UE o è stata disposta la rimozione dal mercato di quasi 2.500 prodotti dai giocattoli agli autoveicoli. Le due principali categorie di prodotti a rischio nel 2014 sono stati i giocattoli, 28%, e gli indumenti, 23%. I rischi segnalati più frequentemente sono di lesioni, soffocamento oppure rischi chimici. Spesso, infatti, i nemici più pericolosi sono le invisibili vernici tossiche usate per decorare i prodotti, soprattutto destinati ai più piccoli. As per la mia consiglia a vostra madre e sore, for me, come madre, e già madre, il numero di prodotti da i giocattoli è alertero. Quindi, per favore di quello che ti dà i bambini a giocare. Il principale paese di origine dei prodotti pericolosi rimane la Cina. Da lì nel 2014 come nel 2013 è arrivato il 64% del totale delle notifiche. Per tentare di risolvere il problema la Commissione collabora con Pechino attraverso un apposito sistema di allarme rapido che dovrebbe garantire che le autorità cinesi affrontino tutte le questioni di sicurezza dei prodotti in loco. Evidentemente però resta più di una falla.